Sondaggio XE sulle intenzioni di voto del 5 settembre 2019. La fiducia del Premier Giuseppe Conte è al 48%, era data al 60%, quindi sarebbe in calo. La Lega si mantiene il primo partito nonostante sia in discesa e si attesta al 30,1%. Dei consensi. Il secondo partito sarebbe il Partito Democratico di Nicola Zingaretti stabile al 23%, subito dietro al terzo posto il Movimento 5 Stelle in recupero dopo la debacle delle elezioni europee del 26 maggio, quando i pentastellati erano al 17,1%. Secondo l'ultimo Demoscopio sono al 22,3% delle indicazioni di voto, quindi un forte recupero. Venendo al centro-destra, Forza Italia di Silvio Berlusconi viene data al 7%, mentre Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni al 7,4%. L'ultimo interessante dato è quello sulle previsioni della durata del governo Conte e Bis tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle. Solo il 15% degli intervistati sarebbero dell'idea che il governo arrivi a sua scadenza naturale a fine legislatura nel 2023. Grazie per avermi ascoltato e vi rimando al prossimo video. Arrivederci. Grazie.